Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Zabellone03 Ragazzi, oggi siamo qui su quello che doveva essere il secondo video su questo canale Comunque non mi importa se è il secondo o il 25esimo video, basta che lo può, carico questo video e va bene così, non mi interessa Allora, ragazzi, cominciamo subito, vediamo un attimo Gratis, va bene, questa va bene Ah, questa unisci di gratis Quindi mo' possiamo fare una Una battaglia Allora, io mi prenderei questo qua Ragazzi, non so se sto a fa bene, se ho fatto male Io cerco di fare il più possibile, però Vediamo Allora Ci vado a mettere questo Ci vado a mettere questo come difesa Poi ci vado a mettere questi Ci vado a posizionare questo, il Goblin Al cene della battaglia Ragazzi, non so se, come vi ripeto, non so se sto facendo bene Non so se sto facendo bene, ragazzi Però Aiutiamogli È ok Perfetto Perfetto Ho capito, comune, ho capito Vai Allora ragazzi Allora ragazzi Io prenderei questo Questo qui Questo La palla rinfocata Che dovrebbe fare più danno Cioè fa più danno Dovrebbe fare più danno Ma io ovviamente Le sto personalizzando Poi Le dovrò ancora modificare Quelle altre carte Quindi Ancora Non Succede che Io se non Visto che ancora non ho avuto tempo Ragazzi Per modificare Quelle carte Che vi dicevo Allora Per il momento Diciamo che Si potrebbe Noi cominciamo Con questo E poi vediamo Cosa potrebbe succedere Ovviamente ragazzi Scrivetemi nei commenti Che cosa ne pensate Di Questa cosa Perché Così So Quali Tipi di video Volete Ottenere Quali no E così via Insomma Ragazzi Perché Per me Così E' anche Più facile Allora Cominciamo Subio Mettendosi Questi due Andando a metterci La sfera Infuocata Qua Fa parecchio Danno Ragazzi Minatore Andiamoci Ci andiamo a Andiamo a mettere Questi Scheletrini Che non Sono Ma Perfetto Ok Bene 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 Stiamo Facendo Un po' Di danno E ne stiamo Facendo Ci andiamo a Mettere Questo Questo I pipistrelli Ci andiamo a Mettere A copertura Questo Secondo me Qua Abbiamo Sbagliato Un pochetto Perché Secondo me Non dovevo Fare Quella Mossa Che ho Appena Fatto Però va bene Chi se ne importa Ok Questo Diciamo Che va Bene Questo Andiamo a D'aiutarli Con questo Andiamo a Metterci Questo E adesso Abbiamo Stravinto Ragazzi Questa Partita Dovrebbe Essere Perché Se ci Arrivano Pure Questi Altri Abbiamo Vinto C'è niente Da fare Ragazzi Allora Ragazzi Che vi Devo Dire Oggi Per questo Video Di oggi Può Finire Qua Questo Lo Monto Lo Renderizzo Lo Carico E Cercherò Di Caricarlo Al più Presto Questo Video Perché Lo Metterò Oggi E Niente Ragazzi E Poi Mi raccomando Iscrivetevi Al canale Attivate La campanellina Per non perdere Nessun video E per Darsi ragionare Sempre Sui nuovi Video Che usciranno Mi raccomando Ragazzi Ditemi Nei commenti Cosa ne pensate Di questa cosa Di questo gioco Qua E anche Di Se vi piace Se non vi piace E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi